Carissimi youtuber, quest'oggi sarebbe dovuto andare in onda un altro video, dove costruivo un bigliattino. Ma dato che quest'ultimo non funzionava a dovere, ho dato il cambio con un blog. Spiego che vi piaccia, buona visione! Iniziamo con il parrivedere in Murales del parco che abbiamo nel nostro paese. Alcuni ragazzi hanno pensato di realizzarli per proiettare i repertori della propria infanzia. Grazie! 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 Grazie.